Ciao ragazzi, qui siamo nell'incrosso fra via Carducci e via Delfico. Vedete? Lì c'è il colpo e lì c'è Piazza Dante. Vedete questo enorme palazzo? Qui è ospitata la Biblioteca Provinciale Melchiorre Delfico. Ma andiamo nel dettaglio, lì c'è l'entrata e troviamo la caffetteria, l'emeroteca, una sala lettura e la sala ragazzi. Qui potete trovare libri per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Morgana, ma a che servono questi bollini? Aiutano a capire a quale genere appartiene ogni libro. Siamo di voi importantissimi, la sala cataloghi. Con il catalogo troviamo il libro che ci interessa ed è facilissimo. Come potete vedere, nella sala ragazzi si può leggere come meglio si crea. Grazie a tutti.